Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del nostro telegiornale oggi è dedicata alla protesta organizzata dai cittadini coinvolti nella vicenda relativa alle case popolari. Urlano a gran voce che non vogliono abbandonare le abitazioni e chiedono di non essere lasciati soli l'approfondimento in questo servizio. La casa è un diritto, è la scritta che campeggia su uno striscione esposto questa mattina a Gela, cronaca di una giornata di ordinaria protesta dinanzi a Palazzo di Città. Non vogliono lasciare le case popolari in cui vivono da anni, chiedono di restare, monta la protesta. Sono i cittadini che fanno sentire a gran voce le loro richieste, invocano l'intervento del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Oggi per l'ennesima volta siamo qua davanti al comune di Gela per il fatto degli alloggi popolari. Noi vogliamo la regolizzazione subito, immediata, perché da 12 anni, 13 anni che abitiamo in queste case e non ci potete buttare fuori. Noi siamo stanchi, lancio un appello a Crocetta che intervenga immediatamente. Siamo disagiati, siamo in mezzo a una strada, siamo anche senza lavoro. Signor Crocetta si muove, che noi siamo stanchi. Noi vogliamo essere regolate nella granatoria, per la casa, abbiamo tutti i diritti. Noi vogliamo a Crocetta, Crocetta deve venire qua subito, immediatamente Crocetta. Abbiamo chiesto aiuto per un lavoro e si fanno sordi. Abbiamo chiesto di farci mettere in regola per le case e non ci interessa niente. Ci sono persone che veramente abbiamo bisogno, siamo persone che abbiamo bisogno di un lavoro e di un tetto. E al limite ci trovano un'alternativa, prendono una casa, la casa sostitutiva, e ci mettono in un'altra casa sostitutiva. Queste sono case popolari, persone che non ci abitano da 30 anni, case vuote, persone che la usano soltanto come casa vacanza. Cioè ci sono persone che si fanno segnare la casa e poi se ne vanno. E protestano anche gli studenti di Gela contro la buona scuola di Renzi. Un folto corteo ha raggiunto il centro storico della città fino a portarsi dinanzi al comune. Vediamo. Ragazzi, perché cosa siamo qui oggi? E' la buona democrazia! E' la democrazia! E' la democrazia! E' la loro soveriana! Sono scesi in piazza questa mattina gli studenti di Gela per contestare la nuova riforma della buona scuola. Il corteo che ha visto la partecipazione di numerosi studenti si è portato dinanzi al comune di Gela. Abbiamo sentito le loro richieste. Questa protesta ovviamente è facile capire il motivo. Chiaramente Renzi ormai sta eliminando la democrazia, così come in tante istituzioni, come anche nella scuola. Perché chiaramente noi oggi siamo qua a protestare proprio perché ci sono troppi articoli della riforma a buona scuola che in qualche modo contrastano quelli che sono i nostri diritti. Per dire, ormai le tassazioni stanno vendendo lì all'universitario, la scuola sta diventando solo per i ricchi, non si potrà andare all'università. Chiaramente noi siamo qui, quelli che vedete qui non sono ragazzi che sono venuti, scusate la voce, sono venuti solo per il diverso, per una giornata diversa. Tutti qua, vi posso assicurare che sono ragazzi che ci credono e che vogliono un cambiamento. Renzi deve capire che noi non siamo il problema, noi siamo la soluzione. Invece di toglierci soldi per usarli per le imprese, deve capire che valorizzarci può essere la soluzione per tutti i problemi dell'Italia. La proposta di Gela è sicuramente una lotta contro la privatizzazione delle scuole, contro l'edilizia scolastica che purtroppo qui, almeno nel nostro contesto, non funziona. Perché non funziona? Perché abbiamo ancora tecnologie, ad esempio io vengo da un istituto tecnico, abbiamo tecnologie indietro di circa 40 anni. Noi siamo la scuola che formiamo i ragazzi al lavoro. E come possiamo formarli? Penso noi nel senso come possiamo formare la scuola se non ci sono nemmeno le tecnologie adatte. Noi rappresentanti degli studenti gelesi abbiamo deciso di aderire a un'organizzazione nazionale chiamata UDS, Unione degli Studenti. Offriamo la possibilità ai ragazzi e soprattutto di far vedere anche che la nostra città non offre solo delinquenza, ma offre comunque dei giovani volenterosi che hanno voglia di cambiare. Io credo di vedere la scuola del domani in un modo davvero positivo, non quello che stiamo facendo oggi, che diciamo io ritengo negativo verso loro, perché ci stanno innanzitutto facendo perdere un giorno di scuola inutilmente, perché l'istruzione è una cosa che deve essere per tutti, condivisa per tutti. Siamo alla cronaca, doppio incendio nella notte dopo diverse settimane di tregua. Gli incendiari hanno colpito nella zona di San Giacomo e a ridosso di Settefarine. Il primo allarme scattato intorno a mezzanotte in via Lipari, un Audi 5, è stata danneggiata dalle fiamme. Appartiene ad un giovane operaio di 23 anni. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia delle volanti insieme ai vigili del fuoco. Poco dopo, intorno alle tre in via Botallo, proprio a ridosso di Settefarine, un rogo ha distrutto un Fiat Fiorino utilizzato da un operaio edile di 43 anni. Sul posto oltre i vigili del fuoco sono arrivati i carabinieri della radiomobile. In entrambi i casi si segue la pista del rogo doloso. Libertà e partecipazione, le celebri parole di Giorgio Gaber, hanno denominato l'importante giornata che si è svolta ieri presso la Casa Circondariale di Contrada Balate, organizzata in collaborazione con la Proloco di Gela. Vediamo. Un messaggio sociale incisivo, quello concepito dall'Associazione di Promozione Turistica Proloco di Gela che ieri ha organizzato un evento all'interno della Casa Circondariale di Contrada Balate di Gela di concerto con la direzione dell'importante struttura locale. Ai detenuti è stata offerta la possibilità di vedere e apprezzare il video di promozione del territorio locale prodotto dalla Proloco di Gela e di sorridere e trascorrere del tempo in allegria con lo spettacolo di intrattenimento con Salvo Larosa e l'attore Enrico Guarneri in arte Litterio. Possiamo definirla un'iniziativa perfettamente riuscita e possiamo dire che c'è stato un attimo di condivisione fra i detenuti e tutti noi. Salvo Larosa e l'Ittario in fondo ripentono un po' quella che è la vita quotidiana della Sicilia, del popolo siciliano. ed è stato motivo di creazione di una sintonia, di una speciale sintonia, di una condivisione e anche in termini non tanto così teatrali, ma proprio in termini di fattività, di un'ipotesi progettuale che va al di là solamente delle idee e dei pensieri. Altrimenti, che valenza dà la Proloco all'iniziativa che si svolge all'interno della Casa Circondariale? Grandissimo valore educativo per quanto riguarda la Casa Circondariale, ma anche e soprattutto probabilmente divulgativo perché l'obiettivo è quello di dare sempre la speranza di una vita migliore e soprattutto far capire che Gela, la nostra città, ha delle grandissime qualità, delle grandissime occasioni che bisogna sfruttare. Ecco perché la Proloco è presente, facendo capire attraverso il video che chiaramente pubblicizza la nostra città e facendo notare tutte le bellezze particolari del nostro paese. Quanto è stata importante l'iniziativa che si è sviluppata all'interno delle mura dell'istituto penitenziario? L'importanza è notevole perché oggi, grazie alla Proloco e grazie all'associazione che hanno lavorato, è stato possibile portare all'interno di queste mura un cenno di speranza. È stato possibile portare quello che la gente da qua dentro non vede da diverso tempo, cioè il tramonto di Gela, grazie al video della Proloco, ma soprattutto strappare un sorriso grazie agli attori che hanno recitato sul palco e credo che questa gente ne abbia bisogno per recuperare fiducia nella città e soprattutto per recuperare fiducia in se stessi. E all'evento organizzato dalla Proloco di Gela e dalla casa circondariale di Gela, in collaborazione con l'istituto alberghiero di Gela diretto da Grazio Di Bartolo, hanno assistito anche i dirigenti e rappresentanti degli istituti superiori di Gela, nonché le massime autorità civili e militari locali e i volontari che prestano servizio con diversi progetti presso la stessa casa circondariale. Applausi a scena aperta per Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri in arte l'Itterio. Sentiamo. Enrico, è stata, se vogliamo, un'esperienza, sottolineiamo anche formativa? Ma sicuramente, sicuramente, anche se per noi che abbiamo i capelli bianchi, certe cose non è che ci sciocchino più di tanto ormai, però poi toccare con mano e entrare dentro una casa di detenzione è sempre un certo effetto. E qual è il messaggio che parte da Enrico Guarneri? Rivolto ai detenuti? Rivolto ai detenuti? Beh, insomma, io, che quando diventano ex detenuti, rimangano tali. Quindi comportarsi, secondo quelle che sono le leggi, con molta pazienza. Per chi lo capisce, non è facile, a volte la disoccupazione, la mancanza di lavoro. Ci vuole molta pazienza. Se si è ex detenuti, rimaniamo ex detenuti. Fate in modo di non tornare più. Salvo, è stata un'esperienza bella, formativa, affascinante, se vogliamo. Che voi avete assecondato subito, grazie all'iniziativa promossa dalla Proloco. Ma credo che noi che facciamo questo mestiere abbiamo il dovere di andare a portare un po' di gioia, di serenità, di divertimento nei luoghi di sofferenza. Noi andiamo negli ospedali, andiamo nelle case di cura, andiamo nelle menze sociali, andiamo a trovare i bambini, gli anziani. Quando ci invitate, quando ci invitano, veniamo anche a fare spettacolo nelle carceri, che sono luoghi di sofferenza dove chi ha sbagliato paga la propria pena, ma dove anche chi ha sbagliato ha diritto a vivere in maniera dignitosa, quindi anche a vivere momenti come questi che noi abbiamo regalato a loro, cioè momenti di divertimento, di simpatia. Quello che noi sappiamo fare abbiamo fatto anche per i detenuti. Del resto Gesù nel giorno del giudizio ha detto ero carcerato e siete venuti a visitarmi, quindi è un'opera importante. Io mi complimento con tutti coloro i quali lavorano nelle carceri per portare cultura, istruzione, divertimento, svago e lavoro, anche a chi, lo ripeto, ha sbagliato e paga la propria pena. Quindi non è la prima volta e certamente non sarà neanche l'ultima, noi siamo sempre a disposizione, siamo anche personaggi amati e popolari e quindi con i nostri messaggi positivi arriviamo anche più facilmente al cuore della gente. Sono stati pubblicati bandi di concorso Contributo per Gravi Malattie, Contributo per Handicap Grave, Gestione Fondo, Ipost, anno 2015. Lo comunica l'Inps di Caltanissetta. I soggetti in favore dei quali sono prestati e predisposti bandi sono i dipendenti del gruppo Poste Italiane, dipendenti ex e-post sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'articolo 3 legge 27 marzo 1952 numero 208 i pensionati della gestione ex e-post e i loro coniugi e figli portatori di handicap grave, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate. È possibile consultare bandi alla pagina internet concorsi e gare, iniziative welfare, assistenza e mutualità, concorsi welfare, assistenza e mutualità, bandi nuovi. Le domande dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione Centrale Credito e Welfare Area Risorse, contenziosa, mezzo raccomandata o assicurata convenzionale. Assemblea del Comitato di Quartiere Macchitella, sono diversi gli elementi interessanti che sono emersi nel corso della riunione, tra cui una proposta che inoltrerete presto a Palazzo di Città. L'Assemblea di Macchitella è stata l'occasione sia per poter presentare ai residenti le attività che in questi mesi abbiamo intrapreso, con sia le notizie positive, quindi i risultati che sono giunti in questi mesi, sia quelle che ci aspetteremo nei prossimi mesi. Ma è stata anche l'occasione di presentare una bozza di regolamento istitutivo e dei comitati di quartiere con annesso una proposta di bilancio partecipato. È un'idea innovativa perché il bilancio partecipato prevede di stanziare, chiedere al Comune di stanziare il bilancio di previsione delle somme a destinare a tutti i quartieri, quindi per la manutenza ordinaria e straordinaria a tutti i quartieri. I cittadini, conoscendo queste somme, possono poi chiedere, diciamo, lavori nel quartiere per un ammontare complessivo alla somma stanziata. Questa proposta ha due vantaggi notevoli. Il primo è che abbiamo le coperture, quindi non avremo più cantieri che iniziano e rimangono incompleti. E la seconda è un ritorno occupazionale, perché quando il Comune andrà a stanziare ogni anno nelle somme per tutti i quartieri, noi avremo la presenza di numerosi cantieri in tutta la città e quindi comunque avremo una piccola boccata d'ossigeno sul piano occupazionale in tempi di crisi, credo che sia una buona opportunità di lavoro. Voi chiedete l'interlocuzione naturalmente con gli organi politici, però vi ponete come ente politicamente assolutamente trasversale. Inoltre chiedete che tutti i comitati di quartieri della città siano assolutamente attivi. Certo, proprio per questo abbiamo presentato appunto una bozza di regolamento che permette in dando di regolamentare in maniera equa la vita di ogni comitato di quartiere sia dal punto di vista dell'elezione, sia dal punto di vista appunto della vita stessa del comitato. Questo chiaramente legato al discorso del bilancio partecipato permette di avvicinare i cittadini alle istituzioni perché sono loro che propongono direttamente al comitato di quartiere, che poi si fa a portavoce, quelli che sono i progetti più interessanti e quelli che ritengono più utili per il comitato stesso. Sarà presentato il prossimo 20 novembre alle 16.30 a Gela presso la libreria di Felice Arrandazza in Via Parioli il libro dello chef stellato Pino Cuttaia per le scale di Sicilia. L'evento è organizzato dalla delegazione di Gela dell'Accademia Italiana della Cucina, preseduta da Concetta Battaglia. Cuttaia converserà con Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina che coordina l'evento. Inter verranno Mario Ursino, vicepresidente, e Ugo Serra, rispettivamente vicepresidente e coordinatore territoriale della Sicilia orientale dell'Accademia Italiana della Cucina. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. sarà presentato sabato 21 novembre prossimo alle 18.30 nei locali Mondadori Store di Via Marconi 25 a Gela il libro di Domenico Veneziano, una sofisticata e meravigliosa apparecchiatura. Saranno presenti lo stesso autore Daniela Di Marco, naturopata. È stata riaperta il traffico la bretella stradale che permetterà di superare il tratto interrotto del viadotto Emera sull'autostrada A19 danneggiato lo scorso 10 aprile da una frana. Il nuovo collegamento provvisorio realizzato dall'ANAS è lungo complessivamente due chilometri e comprende l'adeugamento della viabilità esistente tra cui la strada provinciale 24 dallo svincolo di Scillato sino al viadotto e la costruzione di una nuova rampa di accesso all'autostrada. La bretella consentirà dunque di ripristinare il collegamento tra Palermo e Catania lungo il percorso provvisorio più breve e con caratteristiche adeguate al traffico autostradale e quindi anche dei mezzi pesanti senza limitazioni di sagoma è portata. Subito dopo il movimento franoso dello scorso 10 aprile è stato immediatamente attivato un sistema di monitoraggio finalizzato al controllo di eventuali spostamenti degli impalcati e del fronte di frana. Attualmente è in esercizio un sistema di monitoraggio integrato topografico e geotecnico. Nel frattempo è partita il 10 ottobre scorso la demolizione delle sei campate del viadotto direzione Catania danneggiate dalla frana per un importo di 2,3 milioni di euro che saranno completate entro il mese di dicembre. Giorno 2 dicembre invece verranno avviate le procedure di autorizzazione ambientale del progetto di ripristino definitivo dell'autostrada. Il nuovo tratto di viadotto e mera sarà in acciaio con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale di luce 130 metri consentirà di scavalcare tutta la parte centrale del corpo di frana mentre le due pile e le relative fondazioni posizionate ai margini della frana saranno dimensionate per resistere al complesso quadro geomorfologico esistente sui versanti. Il progetto esecutivo sarà ultimato entro il giugno 2016 per il successivo appalto dei lavori della durata di 18 mesi. Entro la primavera del 2018 dunque il tratto autostradale sarà nuovamente disponibile a due corsie per senso di marcia senza interruzioni. Al via la 81esima stagione concertistica gelese con la musica classica e lirica organizzata dall'Associazione Amici della Musica Navarra diretta dal maestro Crocifisso Ragona. Il concerto inaugurale della stagione si terrà in occasione della festa di Santa Cecilia, appuntamento domenica 22 novembre prossimo alle 19 presso Palazzo Pignatelli a Gela con il mezzo soprano Giuliana Consiglio e Angelo Zarbo al pianoforte. Una grande festa nella sala convegni del seminario Vescovile di Caltanissetta con momenti musicali e performance coreutiche di giovani artisti per festeggiare il 25esimo anniversario dell'unità operativa di diabetologia e obesità in età evolutiva dell'Aspnis Sene dell'Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia. In occasione della giornata mondiale del diabete infatti si è voluto festeggiare il compleanno di Insulo, la mascotte dell'unità operativa, una pala di fichi d'India con i suoi frutti dolci ma anche con le spine come l'insulina che tanti bambini sono costretti a fare. Una mascotte simbolo della sinergia tra l'Aspnis Sene e l'Associazione Giovani Diabetici Centro Sicilia iniziata nel 1990 con l'obiettivo di offrire cure e sostegno ai bambini con il diabete e alle loro famiglie. Numerosi relatori illustri intervenuti all'evento per ripercorrere le tappe di questa avventura che ha consentito alla diabetologia pediatrica di diventare centro di riferimento regionale. Certamente è un centro che prima non esisteva, che esiste adesso da ben 25 anni, infatti oggi festeggiamo il compleanno di Insulo che è la mascotte del centro e certamente è un servizio innovativo nel suo genere perché prima del nostro servizio esistevano solo centri ospedalieri e universitari. Da un po' di tempo la cura del diabete è cambiata, si rivolge verso nuove frontiere, cioè l'integrazione ospedale e territorio ed è quello che noi qui a Caltanissetta abbiamo faticosamente raggiunto. Abbiamo una buona intesa con i poli ospedalieri, soprattutto la pediatria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e la pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, per cui i bambini, i ragazzi del nostro comprensorio e includo come comprensorio anche le province di Enne e Agrigento come da piano sanitario regionale non hanno più necessità di spostarsi nel nord Italia o verso i poli universitari. Supportiamo le famiglie, dato che la nostra associazione è formata quasi esclusivamente da genitori di ragazzi diabetici. Li sopportiamo nel lato amministrativo, li seguiamo nelle loro problematiche con gli uffici governativi, con l'Inpes, con l'Asp e i piccoli problemi dovuti di gioia con le scuole, ora soprattutto con le scuole dove siamo impegnati con il documento nazionale che è stato ricevuto dalla regione Sicilia l'anno scorso e perciò siamo impegnati con l'Allergia 104 e con i presidi sanitari soprattutto. Adesso la nostra consueta rubrica in breve. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo spettacolo 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Un unico vero potere, servire gli altri nella solidarietà, è il tema del nuovo anno sociale 2015-2016 dell'Associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo, presieduta da Andrea Cassisi. L'apertura ufficiale si terrà sabato 21 novembre alle 19 con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, presso la parrocchia San Rocco. Alla Santa Messa presenzieranno tra gli altri autorità civili e religiose e gli iscritti e i soci del Centro Culturale. La Cassa Forense oggi, nuovi regolamenti dei contributi e dell'assistenza. Si tratta del tema del convegno promosso dalla Cassa Forense, dall'Ordine degli Avvocati di Gere e dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati. Appuntamento previsto per domani alle 15 nell'Aula Conferenze Avvocato Moscato del Tribunale. Si terrà sabato 21 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gere il musical The Wits di Charlie Small che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola Casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre la spesa per chi è povero. Il Sor Optimist Club di Gere in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaul al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può giovare a chi intende intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema. In genere la comunicazione, il corso si svolgerà a Gere dal 23 al 27 novembre, dalle 16.30 alle 18.30 presse il Museo del Cinema che sorge nei locali del Palazzo Pignatelli. Siamo all'informazione cinematografica ed è marzia nel sopravvissuto e il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Sono due gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 18.30 e 21.30. Per il teatro comincerà mercoledì 18 novembre la stagione al Cineteatro Antidoto di Macchitella. La compagnia Antidoto si esibirà in abbriscola due per due, si tratta di due atti di Tiziana Guarneri. Appuntamento alle 21.30. Lo spettacolo sarà proposto anche giovedì 19 novembre, sempre alla stessa ora. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo che i nostri approfondimenti sono disponibili sul portale web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato. Arrivederci.